E senti, se facciamo una lotta tra te e me, chi è che vince? Eh, io sì... Cosa stai dicendo? Tra io e te, chi vince? Eh, vinco io! Vincio io, sì! Cosa stai... Eh? Ma non è possibile! Ma non è possibile! Eh, guarda! Ma non ridere, sennò chiamo i miei fratelli grandi, eh! Eh, vabbè, chiamati! Vuoi che li chiamo? Sì! Venite qua un attimo! Avete figato con l'uomo nero? Avete provato a figare con l'uomo nero? Ma ma siamo seri? Ma ma non so cosa stai dicendo, mi devi spiegare prima... Eh, ci vogliamo fare vedere che ti battiamo la lotta! Vabbè, ma siete tutti debole... Vuoi che ti facciamo vedere? Sì! Vai! Nessuno ci batte a noi! Vai! Fuorci!